in questa video lezione è contenuta una lunga serie di frasi scritte in italiano e che tu dovrai tradurre in tedesco buon divertimento è occupato è occupato esist besitz esist besitz offretta offretta ich bin in Aile è una vergogna è una vergogna esist schande esist schande sono libero di sera sono libero di sera ich bin frei in den Abend ich bin frei in den Abend è tardi è tardi esist spett jetzt esist spett jetzt dov'è il mio telefono dov'è il mio telefono wo ist mein Handy sono nato qui sono nato qui ich bin hier ich bin hier geboren ich bin hier geboren chi te l'ha detto chi te l'ha detto wer hat ihnen gesagt wer hat ihnen gesagt fa caldo oggi fa caldo oggi esist ice hoite ho trovato qualcosa ho trovato qualcosa ich habe etwas gefunden ich habe etwas gefunden è una cattiva idea è una cattiva idea esist eine schlechte idee esist eine schlechte idee è bloccato è bloccato esist blocchiet esist blocchiet sto guardando un film documentario sto guardando un film documentario ich seh einen documentarfilm ich seh einen documentarfilm è una bella storia è una bella storia esist eine gute geschichte esist eine gute geschichte sono determinato sono determinato ich bin bestimmt ich bin bestimmt ich bin bestimmt Grazie per la visione!